Amici di To Do Food prepariamo insieme la torta 7 vasetti. In una ciotola rompiamo 3 uova. Le mescoliamo con un frustino e aggiungiamo 2 vasetti di zucchero semolato. Il vasetto dovrà essere da 125 grammi. Aggiungiamo un vasetto di yogurt bianco e mescoliamo. A questo punto aggiungiamo 3 vasetti di farina. Aggiungiamo il secondo e mescoliamo ed anche il terzo. Uniamo anche un vasetto di olio di semi. Mescoliamo per bene il composto e aggiungiamo una bustina di lievito per dolci e un pizzico di sale. Io ho aggiunto anche mezzo vasetto di gocce di cioccolato infarinate ma potete anche ometterle. Versiamo il composto in uno stampo imburrato ed infarinato, io ho scelto quello a ciambella, ed inforniamo a 180 gradi per circa 35 minuti. La nostra torta è pronta, una ricetta buona e facile che ci viene in aiuto quando in casa non abbiamo una bilancia.